Sicuramente non è il risultato che ci aspettavamo, abbiamo preparato bene questa gara, tutta la settimana eravamo stati concentrati, sapevamo che affrontavamo una squadra molto forte, però come spesso accade le prime partite sono tutte un po' un'incognita, non si sa mai come uno sta fisicamente e sono complicate. Sono contento per il gol anche se non è servito a nulla. Sì, stranamente rigiochiamo subito con loro e abbiamo subito la possibilità di rifarci. La Coppa Italia non è una competizione da sottovalutare, è sempre importante fare un risultato positivo e ce la metteremo tutta per rifarci. Mi trovo benissimo, devo dire la verità, con i compagni, con il misto, la società mi ha accolto molto bene. Fin da subito mi hanno cercato e non ho avuto nessun tipo di esitazione nel decidere di venire qui. Sono ambiziosi, il misto vuole fare meglio dell'anno scorso così come tutta la società e noi stiamo luttando e lavorando per questo. Tutti mi hanno sempre parlato bene, anche ex compagni che sono stati qui come Mazzei che avevo l'anno scorso ad Albano. Mi ha sempre detto che era una società importante, una società dove non faceva mancare nulla ai ragazzi, era ambiziosa, lavorava bene e sapevamo quando siamo venuti qui a fare la semifinale dei play-off che avremmo trovato una squadra competitiva e forte e quindi ho scelto anche questo perché si è dimostrato così. Per che percentuale sto? Non lo so, sicuramente è stata una preparazione importante, una preparazione anche di categorie superiori. L'importante per quanto mi riguarda è lavorare bene, cercare di non fermarsi mai, soprattutto in questo primo periodo, poi giocando, collegare uno alla condizione e la trova. Personalmente spero di migliorare quello che ho fatto l'anno scorso, ma penso sia più fondamentale avere un obiettivo di squadra, che è quello di fare meglio della vittoria dei play-off.